Venerdì 23 dicembre si è tenuto a Bussolengo l'annuale concerto di Natale nella chiesa di Santa Maria Maggiore. A dirigere l'orchestra è il maestro Andrea Battistoni con l'accompagnamento al pianoforte di Sergio Bagietta. Una serata meravigliosa, valeva la pena di essere presenti. La chiesa di Bussolengo è gremita, un'esecuzione di eccellenza, una bellissima preparazione Natale. Abbiamo voluto donare le chiavi della città al maestro Battistoni perché ormai è una presenza fissa su Bussolengo e veramente c'è un legame molto forte con questo territorio. Cerchiamo sempre di portare un repertorio vario, ogni anno di cambiare, anche formazione. Quest'anno siamo in una formazione più nutrita, una orchestra classica con un pianoforte solista, ma niente di tutto questo sarebbe possibile senza la famiglia Avesani. Quindi un concerto di Natale per farsi gli auguri, ma anche per ricordare Luca Avesani, purtroppo non è più con noi, ma possiamo ricordarlo attraverso le emozioni e il sentimento che la musica riesce a creare.